Con una grande festa in Piazza Ferretto il candidato sindaco Luigi Brugnaro chiude la sua campagna elettorale per i ballottaggi. Tra i temi toccati con maggiore insistenza dall'imprenditore è quello della sicurezza e del decoro della città. Il decoro della sicurezza è un modo di prevenire i reati, di prevenire le manifestazioni negative. È inutile poi andare a cercare i colpevoli quando è già successo qualcosa. Bisogna eliminare certe situazioni di degrado assoluto e anche sinceramente di molestia e di maleducazione. Ma il decoro e la legalità, prosegue Brugnaro, non vanno ripristinati soltanto per i fenomeni che mettono direttamente in pericolo la sicurezza della popolazione. A Venezia ci sono persone che vendono cose contraffatte e ancora una volta i vigili o finanza che vanno dai banchettini, dai commercianti regolari. Abbiamo i negozi cinesi dappertutto, facciamo dei regolamenti però che mettono in primo piano le nostre attività, i nostri prodotti tipici. Non possiamo perdere il lavoro così perché un prodotto contraffatto non si sa quanto viene pagato, da chi, dove viene fatto, mentre qua abbiamo le fabbriche che pagano i lavoratori regolari. La contraffazione, spiega l'imprenditore, non è soltanto un attacco al singolo commerciante onesto, ma tutto un sistema economico che ha fatto la fortuna del nostro territorio. Il problema del commercio e della contraffazione non è soltanto il banchetto che fa concorrenza al commerciante di Venezia, è un problema molto più complesso e molto più pericoloso per il nostro paese. Per cui da Venezia deve arrivare un'indicazione chiara che questa roba qua non la vogliamo più e per cui la combatteremo giorno e notte adesso.